Ben trovati anche per la nostra pagina sportiva, atletica, basket, beach soccer e anche calcio a 5 nella nostra scaletta di oggi. Iniziamo dall'atletica leggera, dai grandi risultati per i ragazzi della Virtus, alle giovanili di staffetta che si sono corse al rinnovato Moreno Martini. Fine settimana di risultati esaltanti per gli atleti della Virtus Lucca, protagonisti di gare condotto in modo esemplare al campo Moreno Martini e in giro per l'Italia. Accolonamento del lavoro capillare quotidiano svolto con tutto lo staff tecnico, Bianco Celeste. Sul tartan veloce dell'impianto di Lucca vanno forte le staffette in gara per il campionato di società. Argento nella 4 per 100 ragazzi, composta da Milani, Cantoni, Serafini e Pera e nella 3 per 800 con Pellegrini, Cantoni e Guccione. Quinto posto per la staffetta 3 per 800 ragazze con Susanna Tambellini, Mia Galligani e Nicola Trozos. Tra le altre gare in programma spiccano i risultati di Francesco Cordoni e Martina Bertella, seconda e quarta sui 200 metri. Ottimi anche i cadetti e le cadette in gara, sempre al Moreno Martini di Lucca dove si registrano l'oro e il personal best di Delia Fazzi nel martello femminile con 33,89. L'argento e il personale di Sauro Fanucchi con 40,79 e il bronzo di Stefano Benassini con 38,42 nel martello maschile, oltre al quarto posto di Sara Barzotti nel disco. Andiamo al basket, basket femminile a distanza di tre anni, tornano a incrociarsi le strade del basket Lemura Lucca e del centro della nazionale olandese Courtney Trefferts. Il club bianco-rosso ha infatti annunciato l'ingaggio per la prossima stagione della lunga di Deneller a Lucca nell'annata 2018-2019, chiuse con 12,7 punti di media a partita e 8,4 rimbalzi. Conosce benissimo la nostra serie A1 avendo giocato per tanti anni anche a battipaglia. Andiamo al beach soccer, si è conclusa la prima tappa a Catania, bilancio per il Viareggio, tutto sommato positivo con due vittorie e una sconfitta. Roy Lepore. Il Viareggio Beach Soccer supera il Napoli ai rigori 8-6 e chiude con due successi. L'altro sabato contro il Canalicchio Catania 13-4 con quattro reti di Laio Martins, tripletta di Fazzini, doppietta di Alisson Macell e reti singoli di Zelucas, Marinai Genovali e Bertacca. K.O. venerdì nella debutta all'overtime con l'assemblee detese 1-3 con il gol della bandiera del giovanissimo Bertacca. Si conclude quindi la prima tappa della Pool Scudetto della serie A di beach soccer disputata a Catania. Contro il Napoli la formazione bianconera ha il merito di rimontare per ben tre volte. Reti di Bertacca, Zelucasa e Alisson per poi imporsi ai rigori. La classifica Pulo Scudetto momentanea vede in testa il Pisa di Marrucci con 9 punti, Terracina 6, Farme Viareggio e Nettuno 4, Catania, Alza, Lab Napoli 3, Ebbi, Car, San Benedetti 2, Sicilia e Canalicchio con 0 punti. In questa prima tappa significativo per il Viareggio anche il debutto di quattro giovani under 20 campioni d'Italia fra cui come detto Luca Bertacca che è andato in gol e questo è di buon auspicio per il futuro. E chiudiamo con il calcio a 5. Il Fralbe ha vinto la 37esima edizione del campionato di serie A-AICS. Successo è arrivato dopo aver battuto in finale tempi supplementari la Body Mind. C'è anche il caso di Alberto Francesconi e Massimiliano Paluzzi che facevano parte di quel calcetto alto pascio che nel 1986 si aggiudicò il primo campionato provinciale organizzato dall'ente di promozione sportiva della Rosa della Fralbe che gioca le partite interne alla Perini e di cui Alberto Francesconi è capitano e sostanzialmente anche allenatore. Fanno parte anche Paolo Citti, Massimiliano Paluzzi, Ivano Gianmattei, Michele Grasseschi, Marco Lucchesi, Limi Miulau e Paolo Pierini. Bene è tutto anche per la nostra pagina sportiva. Un break e poi la terza parte del telegiornale.